Apollo e il Daphne è una scultura in marmo di Gian Lorenzo Bernini, scolpita tra il 1622 e il 1625 su commissione del cardinale Scipione Borghese e ancora oggi si conserva presso la Galleria Borghese a Roma. L'opera, che si sviluppa per quasi due metri e mezzo in altezza, sintetizza la vicenda dell'amore non corrisposto del dio Apollo per la ninfa Daphne, così com'è narrata dal poeta Ovidio. Bernini fissa nel marmo il momento più drammatico. Daphne, per sfuggire ad Apollo, chiede aiuto agli dèi e viene trasformata nell'albero dell'alloro, il cui nome greco è appunto Daphne. Questa pianta diventerà così sacra ad Apollo che egli sarà spesso raffigurato con una corona di foglie d'alloro sul capo. Il gruppo scultoreo trasmette una coinvolgente sensazione di dinamismo. Si nota infatti Apollo nell'atto di slanciarsi verso la ninfa, con il piede sollevato all'indietro nel pieno della corsa e con la mano sinistra sul fianco dell'amata. Il movimento è sottolineato dalla veste sollevata dallo spostamento dell'aria e dai riccioli mossi dal vento. Eppure il braccio destro e il busto di Apollo non sono protesi in avanti, ma sono fissati in un movimento in senso contrario, forse come reazione alla sorprendente metamorfosi della fanciulla. Anche la figura della ninfa è costruita per accentuare la sensazione di dinamismo, Daphne si solleva dal suolo con il busto inarcato e il corpo ruota su se stesso per sfuggire alla presa di Apollo. Nel complesso l'equilibrio delle due figure appare volutamente instabile e i due protagonisti sembrano quasi sospesi in aria. In quest'opera Gian Lorenzo Bernini dimostra tutto il suo virtuosismo tecnico e la perfetta conoscenza dell'anatomia umana, come si rileva nel volto di Daphne contratto nel grido, ma soprattutto nella metamorfosi delle sue forme, con le mani alzate verso l'alto che si trasformano in rami e foglie, i lunghi capelli in fronde, i piedi in radici, la pelle in corteccia.